In una camera pur sfiancata dal Covid e frustrata dal fatto di non aver potuto toccare palla nella partita del bilancio, o manovra finanziaria, tutta giocata in modo peraltro sommerso al Senato, la ragionevolezza vuole che l'ex ministra renziana Maria Elena Boschi, aiutata anche dalla sua avvenenza fisica che le va riconosciuta senza dovere incorrere per questo in chissà quali insulti, abbia frequentazioni, impressioni, sensazioni superiori a quelle di noi poveri giornalisti parlamentari. Che peraltro proveniamo da una lunga astinenza da transatlantico, lo storico corridoio di Montecitorio solo di recente restituito ai nostri passi più o meno perduti con deputati, senatori di passaggio, ministri, portaborse, portavoce e quant'altro. La Boschi, dicevo, deve averne sentite e avvertite abbastanza per poter dire in una intervista al messaggero, prima che i giornali si prendessero ben due giorni di assenza natalizia, So per certo che Letta e Conte hanno bisogno delle elezioni anticipate, così come le vorrebbe la Meloni. I tre del resto hanno recentemente avuto occasioni di incontrarsi e festeggiarsi a vicenda, sia pure sotto la fastidiosa pioggia che ha bagnato il raduno annuale dei fratelli d'Italia. Essi sono peraltro accomunati da disagio o indifferenza verso i referendum sulla giustizia ai quali lodevolmente il governo di Mario Draghi ha deciso di non opporsi nell'esame preventivo della Corte Costituzionale. Da sempre maggioranza parlamentare e maggioranza presidenziale sono due aggregazioni diverse, non necessariamente convergenti. Se si va al voto è per Letta, Meloni, Conte, ha insistito l'ex ministra e fedelissima di Matteo Renzi contestando fra le righe anche le preoccupazioni espresse da Draghi nella sua conferenza stampa di fine anno quella del nonno a disposizione delle istituzioni, sui rischi politici di una spaccatura del largo schieramento emergenziale del governo in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica.